e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valori di civiltà. Il codificatore del 2004 ha seguito un criterio di individuazione tipologica fondata su delle definizioni di rango legislativo attraverso cui è possibile individuare i beni oggetto delle disposizioni particolari senza però trascurarne la nozione più generale. Una delle principali distinzioni relative ai beni culturali riguarda il regime soggettivo di appartenenza. Infatti se il bene appartiene a denti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, esso viene qualificato come pubblico. Se invece i soggetti sono proprietari di questi beni culturali, allora sono privati. Il codice però impone che l'interesse culturale sia dichiarato da un provvedimento amministrativo. In tal caso il bene resta di appartenenza privata ma è soggetto a dei limiti posti alle facoltà del proprietario. L'articolo 12 del codice del 2004, innovando profondamente il sistema previgente, ha introdotto un procedimento di verifica dell'assistenza dell'interesse storico, artistico, archeologico, eccetera, eccetera, dei beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche senza fine di lucro. Secondo la giurisprudenza, ai fini della sottoposizione dei beni pubblici a vincolo storico-artistico, si è sempre ritenuto necessario un provvedimento di accertamento costitutivo del pregio del bene da parte dell'amministrazione dei beni culturali. Il procedimento di dichiarazione disciplinato dall'articolo 14 del codice e la comunicazione dell'avvio del procedimento implica l'applicazione di misure di vigilanza e di protezione, come ad esempio il divieto di allenazione, di modifiche, di demolizioni, eccetera, eccetera. Il potere di vigilanza sui beni culturali appartiene in via esclusiva al ministro. Per quanto riguarda invece i poteri ispettivi, l'articolo 19 del codice prevede la figura dei soprintendenti e per quanto concerne le misure di protezione sono previste dall'articolo 20 all'articolo 28 del codice è previsto il divieto di distruggere, danneggiare o adibire i beni culturali. Il codice del 2004 fissa anche delle regole tassative in materia di alienabilità dei beni culturali. In primo luogo i beni culturali appartengono allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici e territoriali di cui l'articolo 822 del nostro codice civile. Infatti vi è l'espressione che costituiscono il demanio culturale. A riguardo merita attenzione il regime del diritto di prelazione poiché la prelazione culturale è un istituto da sempre centrale nel regime della circolazione dei beni culturali e la Corte Costituzionale ne ha sancito la legittimità. È la Corte Costituzionale a definire l'ambiente come un bene immateriale, unitario sebbene sia caratterizzato da varie componenti. L'ambiente è protetto nel nostro ordinamento come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue delle astratte finalità naturalistiche ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive. L'ambiente è quindi un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme e viene definito come un bene libero e quindi è fruibile dalla collettività e dai singoli. L'articolo 134 del codice 2004 individua i beni paesaggistici per le relazioni e essi sono gli immobili e le aree che sono indicate nell'articolo 136 quindi aree di notevole interesse pubblico. Poi abbiamo delle aree tipizzate ex legge e infine delle aree sottoposte a delle tutele di piani paesaggistici. Possono essere quindi ad esempio giardini e parchi oppure quelle aree che sono sottoposte a tutte le ex legge sono ad esempio i territori costieri, i laghi, le acque pubbliche, le montagne o ancora i territori di protezione esterna dei parchi, delle zone vulcaniche ecc. Anche per i beni paesaggistici il codice del 2004 prevede degli istituti di controllo tra i quali materia menzione è la cosiddetta autorizzazione paesaggistica in quanto i proprietari, possessori o detentori di qualsiasi titolo di immobile di notevole importanza di interessi pubbliche non possono distruggerli né modificarli e questo viene contemplato nel nostro codice. L'articolo 146 inoltre contempla un procedimento per il rilascio dell'autorizzazione che stabilisce essere efficace decorsi 30 giorni della sua emanazione. Dobbiamo ricordare però che l'ambiente è una materia trasversale quindi la caratterizzazione trasversale della materia dell'ambiente e tuttavia non comporta, secondo la Corte, che lo Stato debba necessariamente limitarsi a stabilire sulle norme di principio e quindi ci sono delle norme che influiscono sulla tutela dell'ambiente. Infatti in ambito amministrativo, fra i principali strumenti di cui le amministrazioni pubbliche dispongono, vi è quello denominato valutazione di un impatto ambientale che rappresenta proprio la concreta espressione di ponderazione e bilanciamento di interessi differenti e contrapposti capace di individuare degli effetti impattanti che determinati progetti pubblici potrebbero avere sull'ambiente. Ovviamente vi è anche l'influenza della comunità europea che ha emanato dei provvedimenti normativi in via più ampia per la tutela dell'ambiente i quali devono essere applicati nella nostra nazione. La disciplina nazionale sulle valutazioni di impatto ambientale viene introdotta nell'ordinamento nel 1986 con una valutazione di impatto ambientale e veniva prevista la presentazione di un disegno di legge entro sei mesi nonché l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'individuazione delle categorie di opere da assoggettare e le relative normative tecniche. Le ampie frammentate disposizioni sulle valutazioni di impatto ambientale necessitavano di un riordino che è stato oggetto di diversi disegni di legge. Le principali innovazioni furono la integrazione del testo unico ambientale le relative procedure che sono state specificamente applicate per impatti significativi e negativi per l'ambiente e viene sviluppato un maggior coordinamento tra le valutazioni di impatto ambientale e anche ciò che riguarda la vigilanza e il controllo. Ancora più significative sono state le misure di semplificazione apportate in tema di impatto ambientale e di competenza statale sia con il decreto legge del 2020 sia con il decreto legge del 2021 quest'ultimo nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poiché viene istituita una commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale per i progetti rientranti nel PNRR estendendo le competenze della previgente commissione e quindi ampliandone anche le competenze. La norma in questione stabilisce che nella trattazione dei procedimenti di sua competenza la commissione dia precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro. Quindi la norma assicura del personale dedicato proprio a questa analisi e attribuisce poi natura di pubblica utilità e di urgenza delle opere per quanto riguarda infrastrutture necessarie per la realizzazione di progetti strategici. La